Servizi digitali a misura di cittadino. Per realizzarli c'è bisogno di ascoltare, di trarre valore dai dati, ad esempio quelli che possiamo trarre dalle conversazioni digitali. Quindi monitorare gruppi omogenei di utenti o le personas ci permette di collegare ad esempio i dati anagrafici, demografici, con i servizi, con i bisogni, con le necessità e ci porta, ci dà la possibilità di personalizzare il servizio. Questo è l'obiettivo a cui deve tendere la pubblica amministrazione oggi. Ma quali sono le soluzioni e le tecnologie che ci permettono di fare questo, cioè trarre valore da questi dati per personalizzare l'esperienza degli utenti? Ne parliamo con Leonardo Mangia, è qui collegato, lo vedo, benvenuto Leonardo, vice direttore di Soprasteria. Buongiorno a tutti. Allora Leonardo, per le aziende lo sappiamo, la reputazione è fondamentale perché incide, la reputazione online, chiamiamola così, incide su prodotti, su ricavi. La pubblica amministrazione fondamentalmente non ha ancora imparato a curarsi della sua reputazione, permettimi questa affermazione. Lo vediamo perché negli anni si è sedimentato uno storytelling negativo intorno al settore pubblico. Ma come può oggi una pubblica amministrazione superare questo racconto, trasformarlo in un racconto positivo? Grazie, grazie per l'opportunità. Cambiare è sempre difficile, specie in organizzazioni altamente burocratizzate. Prova ne è che negli ultimi 20 anni ogni tentativo di cura è stato vano. Tuttavia cambiare si può e non è impossibile. La pubblica amministrazione rappresenta per il cittadino l'ente a cui rivolgersi per risolvere le sue problematiche. Quindi la comunicazione è sempre stata unidirezionale. L'APA emette norme ed il cittadino chiede come adeguarsi. Dobbiamo cambiare lo storytelling, introducendo nuove categorie che attingono dal campo informativo dei social, che si stagliano oramai come luogo della discussione. La piazza, la contrada, piuttosto che il bar. Insomma, i luoghi un tempo debuttati allo scambio di informazioni sono stati sostituiti talvolta in parte, talvolta in toto dei social. Quindi dobbiamo ripensare a un canale comunicativo bidirezionale. La pubblica amministrazione verso il cittadino e viceversa. E questa è un'opportunità incredibile per la nostra pubblica amministrazione, per cambiare. Da un lato valutare la sua reputazione sociale, dall'altro interpretare le paure, i desideri, le denunce, le speranze, i suggerimenti che si vincono dalle discussioni social. Oggi gli algoritmi di intelligenza artificiale, piuttosto che i sistemi di apprendimento incrementale, possono aiutare la pubblica amministrazione a trasformarsi, a diventare parte attiva di un moto di cambiamento che anticipa le esigenze dei cittadini per fornire un servizio utile e fruibile dallo stesso. Essere vicino al cittadino significa oggi anticipare le sue esigenze e dal contempo porre attenzione alla reputazione dell'ufficio che eroga un servizio pubblico. Il punto di svolta è nell'ingaggio del cittadino. È su questo che si gioca il cambiamento. Anticipare i disservizi, evitando l'intasamento del call center per la denuncia ex post, quindi per una PA ex ante. Se si riuscisse a costruire dei QPI relativi al monitoraggio della reputazione, ovviamente fornendo alla stessa PA i mezzi per calcolarli, è sicuramente un primo passo. Disruptive verso il cambiamento. Non è tutto facile, nessuno ha la bacchetta magica. La pubblica amministrazione deve solo crederci ed incominciare a incorporare servizi che sentono, ascoltano la piazza, la contrada, i bar, i social. La media data a Roma di Soprasteria è pronta per la transizione sociale dalla nostra pubblica amministrazione. Penso che il momento pandemico e il PNRR abbiano inciso fortemente sul ripensamento della PA e che si possa lavorare tutti insieme e poi una ripartenza V della stessa. Allora Leonardo, ti ringrazio. Tu hai fatto riferimento proprio ai social, alle conversazioni che nascono su queste piattaforme. Ma come possiamo, io inizialmente parlavo di valore, di dati, cioè concretamente però, come possiamo estrarre valore da queste conversazioni che diciamocelo spesso ci vengono restituite in maniera molto confusa? Certo, alla confusione dobbiamo aggiungere anche l'incertezza sui dati. Oggi la ricerca informatica ci aiuta con algoritmi intelligenti e di apprendimento incrementale a individuare i segnali forti e soprattutto quelli deboli che si estrinsecano dalle discussioni in rete. I segnali deboli sono i primi segni delle questioni emergenti. La loro importanza in ambito organizzativo è presto detto. Possono essere informazioni precursori di futuri cambiamenti. Non credo serva ribadire come le moderne aziende, grandi o piccole che siano, vivono in un ambiente incerto che muta rapidamente. E lo stesso vale per i governi, gli enti locali, la maggior parte delle aggregazioni umane e sociali, oltre che per i singoli individui. Spesso i segnali deboli sono considerati alla stregua del santo graal della conoscenza sul futuro. Tuttavia il singolo segnale, senza l'interpretazione di chi lo riceve, è una mera curiosità utile solo per ottenere un like in più su un Twitter o su una pagina Facebook. Abbiamo accennato prima alla rete, quindi non solo i social cosiddetti, e ne abbiamo un po', anche i blog, le testate giornalistiche, i forum. In rete c'è una massa di informazioni che la pubblica amministrazione non conosce e che invece se esaminate correttamente può alimentare quel moto di cambiamento a cui accennavo prima. Il valore dei dati risiede nel reticolo delle discussioni. Mi spiego meglio. Chi scrive e partecipa di una rete di amici o conoscenti con i quali condivide i suoi pensieri, la discussione è la risultante di un'interazione reticolare, ovvero tutti i commenti dei partecipanti alla rete estesa. Quindi i sistemi intelligenti interpretano, o meglio, raccolgono le discussioni che si dipanano in maniera reticolare e straggono l'evidenza, ovvero i segnali forti. Per esempio, l'autobus numero 5, fermo per guasto e siamo in attesa sotto il sole del prossimo. Che disservizio? Oppure quelli deboli che si interpretano attraverso pochi messaggi per lo più iconici, GIF, piuttosto che emoticon o anche like, sono in grado di evidenziare l'informazione o anche gli alert relativi a una prestazione di un ufficio territoriale o anche di un servizio di trasporto e così via. Capire in anticipo per ingaggiare il cittadino e rassicurarlo che tutto sarà ripristinato è un viatico per migliorare la propria reputazione. Di più, interpretare le informazioni significa anche avere la capacità di modificare i propri servizi per migliorarli o anche per introdurne di nuovi. Insomma, la rete diventa parte attiva del cambiamento e noi come Soprasteria, con la nostra media data room, siamo sicuramente un punto di partenza non da poco. Hai infatti già anticipato in parte la domanda che ti volevo fare ora, proprio in riferimento alla vostra soluzione data media room. Allora, ce l'hai diciamo descritta, ci hai spiegato a che obiettivi risponde e cosa permette di fare. Io ti chiedo se ci puoi raccontare un'esperienza concreta di applicazione di questa soluzione, affinché sia chiaro come lavora e come un'amministrazione ad esempio che sceglie di adottarla può raggiungere gli obiettivi che si dà. Sì, certo. Perché la pubblica amministrazione deve acquisire e ha l'opportunità di acquisire la media data room, perché è uno strumento che diversamente da altri sistemi simili ha la capacità di integrare informazioni residenti sui sistemi interni della pubblica amministrazione, un sistema di CRM piuttosto che di rendicontazione, piuttosto che sistemi esterni, dati meteo o provenienti da INGV. Gli obiettivi della media data room di Soprasteria sono capire da un lato dove avvengono le conversazioni che ci interessa ascoltare e raggiungere, comprendere dall'altro le discussioni internet inerenti al brand, capire la percezione di un fenomeno critico e di eventi di interesse, misurare l'impatto delle iniziative di marketing e delle relazioni pubbliche, ma anche e infine comprendere come migliorare il servizio clienti e le performance aziendali, perché anche la pubblica amministrazione deve seguire un diktat relativamente alle performance aziendali. Faccio due esempi semplici, uno su scala nazionale e l'altro locale. Un nostro cliente pubblico che si occupa di servizi di trasporto su scala nazionale usa la media data room per indirizzare la comunicazione, non solo relativamente al brand, ma anche ai servizi e alle personalità che in gergo tecnico vengono chiamate personas. L'ha usata per esempio per rispondere a una campagna denigratoria dei servizi attivata da un suo competitor che aveva la pretesa di raccogliere il sentiment social con dati incerti e non completi. E la media data room invece ha raccolto tutti i dati e ha fornito le spiegazioni attraverso i media nazionali, quindi giornali, blog, eccetera. Un altro nostro cliente pubblico di trasporto locale invece ha finalmente capito perché i suoi servizi di vendita ticket sia sul portale sia attraverso l'app mobile non erano fruiti e quindi non rappresentavano un altro canale di ricavi. L'analisi delle discussioni su Facebook e su Twitter in primis su questi due social integrati con i loro dati del CRM ha consentito di apportare quelle modifiche tecniche utili affinché i servizi fossero utilizzati al meglio dei cittadini. Insomma, ascoltare cosa la gente ha da dire sui social aiuta a indirizzare al meglio le peculiarità della comunicazione, dei propri servizi, dei propri sistemi e quindi accresce i ricavi all'interno dell'azienda. Un sentiment positivo e una reputazione del brand ottima sono un viatico importante per far crescere le aziende e quindi per far crescere la nostra pubblica amministrazione, per far crescere il rapporto tra la nostra pubblica amministrazione e il cittadino. E noi come Soprasteria sicuramente siamo in grado di portare questo valore atteso. Grazie mille Leonardo. Tra l'altro noi abbiamo parlato molto di miglioramento del servizio, di personalizzazione del servizio, ma dalle esperienze che ci hai appena raccontato emerge che non è solo quello. Cioè è possibile anche proprio ottimizzare i processi, efficientare anche l'offerta del servizio. Quindi è anche un modo per l'amministrazione di rivedere internamente i propri processi e la propria organizzazione. Quindi è anche uno strumento di semplificazione e di ottimizzazione. Allora grazie mille Leonardo. Io ringrazio a tutti coloro che ci hanno seguito e do appuntamento sempre qui su forumpa.it con le nostre interviste. Grazie. Alla prossima.